Il Partito Democratico a Roseto degli Abruzzi sceglie di stare con Mario Nunes in vista del turno di ballotaggio di domenica e lunedì prossimi. La principale forza di centrosinistra e le liste civiche uscite sconfitte con il proprio candidato sindaco Sabatino Di Girono al primo turno hanno ritenuto di fare una scelta di campo netta e non seguire la strada del disimpegno in una partita che si giocherà con il civico da una parte e il centrodestra compatto dall'altra che ha in William Di Marco il proprio candidato primo cittadino. Nella nota firmata dal segretario regionale dei DEM Michele Fina, dal segretario di federazione provinciale di Teramo Pierluigi Possenti e dal commissario di Roseto degli Abruzzi Simone Tacchetti si richiamano le forze democratiche e il civismo a ritrovarsi per dare una prospettiva solida di governo all'Italia e oggi alle città abruzzesi parlando a tutti i cittadini. Di certo, continua il comunicato, questa prospettiva non può essere garantita dalle forze di destra che condividono l'attuale governo regionale e di cui ideali non fanno parte della storia antifascista del nostro partito come non possono essere condivisi accordi sotto traccia che mirano soltanto a perseverare luoghi e posizioni di potere che sono stati negli ultimi anni un ostacolo all'agire amministrativo della maggioranza a guida di Girolamo. Per questo i democratici nel fronteggiare l'avanzata delle destre nel governo delle nostre città e dell'Italia lavorano per coalizioni che condividano valori e progetti di larga veduta, progressisti e ambientalisti in linea con i valori di riferimento della centrosinistra. Il partito democratico e le civiche in coalizione saranno dunque al fianco del candidato sindaco Nugnes con la propria autonomia e le proprie idee senza chiedere nulla in ruoli e posizionamenti ritenendo possibili convergenze programmatiche solo con il progetto di governo del candidato Nugnes nell'esclusivo interesse della città di Roseto. Nell'ultimo periodo dell'amministrazione di Girolamo sono stati predisposti e messi in atto progetti ed interventi indispensabili per Roseto e che si aspettavano da anni. Condivisione ed attuazione di percorsi politico-amministrativi, si conclude la nota, che rimettano Roseto degli Abruzzi e di Rosetani al centro dell'attenzione anche a livello provinciale. vengono garantiti maggiormente dalla proposta civica di Nugnes.